tanta gente lungo il corso nazionale si è fermata ad ascoltare i canti per la pasquetta ieri pomeriggio grande protagonista il gruppo folcloristico termolese ascafette che ha riproposto il tipico canto popolare il lungo corteo era aperto da tre re magico nel seguito pastori e figuranti che ha attraversato corso nazionale seguendo canti tipici che annunciano proprio l'arrivo dei re magi una tradizione che si ripete negli anni e che attira tanti termolesi anche tanti altri curiosi il corteo guidato dai magi con tutti i figuranti è arrivato fino alla capanna della natività vicino alla fontana per omaggiare il presepe e consegnare i doni grande entusiasmo grazie a tutti